Bene ragazzi sono BenWolfers e siamo tornati su Clash Royale Abbiamo bisogno di 4 torri per aprirci i baule della corona Quindi io direi di andare a farle subito Siamo contro Get Get La Fright di livello 10 Che mamma mia Non abbiamo assolutamente niente per attaccarlo noi Quindi io manderei dei banalissimi scheletri E poi io manderei dei lanceri con un cavaliere A questo punto mandiamo un bel barile goblin ora Perché qui possiamo zappare questi ragazzi Lì purtroppo ha messo una Valkyria che mamma mia Possiamo mettere degli scheletri per prendere un po' di tempo E' bello questo barile cavaliere qui per attrarre nuovamente quegli sgherri Ci ha fatto un danno tra Minatore e questi ragazzi che mamma mia Ah quella principessa e chi l'aveva vista quella principessa E chi l'aveva vista per fortuna i lanceri dovrebbero abbatterla con una certa comodità Lui ha sempre quella Valkyria La Valkyria è un problema Ah un cavalca cinghiali mi metti Eccoli la Valkyria Appunto 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 Mettiamo l'oro E questo è un problema Qui la torre ci va giù Proprio tranquillamente Mandiamo lui Un bel barile goblin Cerchiamo di restituirgli l'attaccone che ha fatto Direi che gli si restituisce con una certa tranquillità ragazzi Anzi Gli abbiamo restituito con gli interessi Visto che stiamo anche attaccando bene la torre centrale Qui lui mette dei goblin che io posso contrastare con i miei scheletri Qua possiamo mettere un cavaliere Lì ci sono dei lanceri che dovrebbero darci una certa mano Mandiamo un minatore su quella maledetta principessa Perché io la vorrei vedere abbattuta quanto prima Grazie E qui possiamo andare degli sgherri Perché quella lì non può fare troppe hit Ok Gli sgherri stanno facendo il loro sporco lavoro Possiamo andare un barile goblin Mandiamo anche dei lanceri Zappiamo assolutamente Qui dobbiamo zappare assolutamente Quello muore Qua possiamo mettere degli scheletri Li potevamo mettere meglio E qui ragazzi si fa tostina Lì il minatore dovrebbe darci una bella mano Qui gli sgherri dovrebbero dare una mano al nostro Alla nostra difesa Lì abbiamo mandato un bel barile goblin Perché quello è un bel barile goblin Il problema è che questo ragazzo C'ha a disposizione Un domatore di cinghiali Che mamma mia Mandiamo la gangoblin da dietro Qui mandiamo degli sgherri E adesso mandiamo il nostro caro minatore Più il barile goblin Gli sta arrivando addosso un attacco Che mamma mia Zapp assolutamente qui Zapp assolutamente Lì purtroppo si è difeso Stra bene Non bene Stra bene Con quella stronza Qui mandiamo loro Minatore Barile Assolutamente Dei lanceri Dei lanceri Qui perché non possiamo permetterci Di prendere hit Importanti Qui andiamo a zappare Assolutamente E mamma mia ragazzi Mamma mia Che peccato Per 40 Quanto ti è data di lusso Quanto Che se non avevi la torre al 10 Quella torre l'avremmo fatta Che peccato Ci è mancato Veramente un pelo Ci portiamo a casa Solo una corona Ma pazienza Ma pazienza ragazzi Adesso siamo contro Bico Di livello 9 Mandiamo subito Subito Il nostro caro Barile E vediamo Assieme al minatore Che cosa fai Eeeh Brutta questa situazione Brutta 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 Noi qui possiamo Mandare Eeeh Un cavaliere Qui Assolutamente Loro Assolutamente Anche degli sgherri Mettiamo dei lanceri Perché vogliamo tenere lontano Quel mega sgherro Direi che l'abbiamo impegnato A sufficienza Lui ci ha fatto un danno Che mamma mia Cerchiamo Di restituirlo Con le fiammelle E ce lo impediranno Tantissimo Anche lo stregone C'hai Porco demonio Ma sarai Stronzo Eeeh Mandiamo assolutamente Un minatore Qui Non vogliamo subire Troppe hit Quindi direi di fare In questo modo Allora Ci è andata bene Perché il minatore Ci ha eliminato Una struttura Fastidiosissima Perché quella È una struttura Fastidiosissima Mandiamo una gang goblin Adesso Perché vogliamo Obbligarla A sbarazzarsene Perfetto Ora che se ne è sbarazzata Possiamo andare Eeeh Non possiamo andare più Stavo scherzando Stavo scherzando Loro Sono un gran Bel casino Ragazzi Eh Sono un gran Bel casino Due hit Questo le fa Di sicuro No Ne ha fatto solo una Siamo stati Fortunati La manderà uno stregone No Non mandi lo stregone Mandi lui Mandi Va bene così Allora possiamo fare così No Cos'è questa connessione Persa adesso Ma davvero Ma porco E ovviamente Guardate un po' Cosa ci sta arrivando Ci arriva addosso L'anima Dell'immortacci Sua Ovviamente E vabbè ragazzi Siamo stati sfortunati C'è poco Da fare E da dire Eeeh Lì purtroppo Il barile Non fa in tempo Andrà a segno Però che fortuna Che ci ha avuto questo Eh Ci ha avuto la fortuna Che mamma mia Mandiamo anche gli scheleti Per distribuirgli meglio Il danno Adosso Qui possiamo Mandare Eeeh No Non possiamo più Mandare loro Per fortuna L'eliminatore Sta facendo un buon lavoro Mandiamo dei lanceri Da casa nostra Sostanzialmente Ok Qua possiamo andare Un cavaliere A pararci Questo attacco Lì abbiamo fatto Qualcosina Ma niente Di che Qua siamo costretti A prenderci Questo danno Qui mandiamo Un minatore Ragazzi Che razza Di situazione Brutta Eeeh Lì il minatore Fa il suo dovere Qui dobbiamo Zappare Assolutamente Gang goblin Anche il cavaliere Non l'abbiamo preso In tempo Purtroppo Perché Non li abbiamo Presi in tempo Qui dobbiamo Mandare un minatore Un barile goblin Mandiamo anche Dei lanceri Dovremmo abbattere Di quella struttura Fagli un minimo Di danno Perché non è Un gran danno Quello Che gli abbiamo fatto Qui possiamo andare Degli sgherri Degli scheletri Qui assolutamente Lui Qui assolutamente Loro Lui c'ha un vantaggio Con queste carte Che mamma mia Doppio stregone Elettrico E' Illegale E' Illegale Il doppio stregone Elettrico Ragazzi C'è poco Da fare Lì Ha usato Una palla Di fuoco Buona Considerando Che tanto È cavalca Cinghiali Quindi direi Che questa partita È tranquillamente Persa Posso mandar Loro Posso Zappare Un attimo Ah che peccato Ah che peccato Anche questa partita Abbiamo preso Soltanto Una torre Purtroppo Eravamo vicini Anche se Questo Già aveva un deck Che ci dava Qualche problemini In più Non possiamo Dare una mano a carne Perché abbiamo finito Le mongolfiere Continuiamo a battagliare Ci mancano sempre Due torri Siamo contro Shunt Della Infinite Blades Sempre di livello 9 Giochiamo sempre Con Le handicap Ragazzi Mandiamo anche De Gobbi Lanceri Mandiamo un barile Speriamo che Zappi i lanceri Non li zappa Non li zappa Perché mette Quei maledetti Ah e anche La tornata Allora A noi Può andar bene Quello che hai fatto Ah Quella carta lì Eh direi che Ci siamo difesi bene Qua ragazzi Eh direi che Ci siamo difesi bene Lì purtroppo Non possiamo fare I danni che volevamo Anche se c'è uno scheletro Guardate quello scheletro Quanto era cattivo Quello scheletro Era cattivissimo Ragazzi Gli ha detto No Tu Non fai E tu non ti difendi bene A noi quello scheletro Lì E' piaciuto Da paura Dobbiamo eliminare Quella struttura Sapete già Come la penso Ragazzi Ah che fortuna Però Che fortuna Che fortuna E' una cosa Pazzesca E' riuscito Per penso Pocchissimo A mandare in it Quello stronzo E qua Noi siamo Tremendamente In difficoltà Perché con quello Stregone dietro Non abbiamo modo Di difenderci La vita Li mandiamo Un bel minatore Ah che bella Zap Che bella zap Che bell'orda Che ha mandato lui Qui siamo costretti A zapparla Per fortuna Qui abbiamo fatto Un ottimo lavoro Con i lanceri Perché quello E' un ottimo lavoro Di lanceri E a questo punto Manderei Degli scheletri Per difenderci Da questo ragazzotto Il cavaliere Me lo voglio tenere Assolutamente Per lo stregone Che dovrebbe arrivare Adesso Non arriva adesso Va bene Uguale Perché noi possiamo Mandare un minatore Qui mandiamo Assolutamente Un barile Lui l'ha tornato L'ha già usata Il minatore Ci ha eliminato Una struttura Fastidiosissima E ora Sono problemi Perché Lo stregone Ci difendiamo Con il cavaliere E loro invece Come ci difendiamo Non ci difendiamo Ragazzi Attenzione 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 Non ci difendiamo Mandiamo un super attacco Lui Non dovrebbe Potersi difendere Appropriatamente Quanto meno Mandiamo anche Ah si Ci ha l'ha tornato Scherzavo Ci ha l'ha tornato Quella tornato Gli ha appena salvato La vita In una maniera Che non lo sa Neanche lui Li dobbiamo Sacrificare Assolutamente Quei ragazzi Per Qua mandiamo loro Mandiamo anche Degli scheletri Mandiamo anche Una gangoblin Direi che Ce li siamo Amministrati Benissimo Ragazzi Non bene Benissimo Qua possiamo Mandare Degli sgherri Da lontano Perfetto Un minatore Assolutamente Un barile goblin Non serve Perché la vinciamo Così Bene così Ragazzi Bene così Ci portiamo a casa Purtroppo Soltanto Una corona E ce ne manca Sempre una Quindi io direi Andiamo a farci Un'altra partita Cerchiamo Dipendeci La torre Che ci manca Così la diamo anche A clan Buona fortuna A te Ragazzo E qui possiamo Andare loro E sperare Che non abbia Né tronco Né zap A disposizione C'ha le frecce Perché è stronzo E va bene così Ragazzi Possiamo andare Dei lance Mamma mia Allora Lui non si può Difendere Ma nemmeno io Ma nemmeno io Ragazzi E avevi anche la zap Quante carte avevi Ah lì Ci ha fatto un danno Incredibile Perché lui ci ha fatto Un danno Fantastico Mandiamo un minatore Sperando che arrivi in tempo No purtroppo Li subiamo E anche tanto Zap Assolutamente qui Così ammorbidiamo un pochino Si è difeso con 5 Lui Che non è poco Perché difendersi con 5 Non è poco Qui appena arriviamo A 6 Anzi a 5 Possiamo mandare Un bel barile Su quella torre Ah Strega Quante stronza La strega A saperlo che avevi la strega Mi sarei comportato Sicuramente Diversamente Eh Qua abbiamo bisogno Del minatore Ragazzi Qua abbiamo bisogno Del minatore Quindi Miniamolo La strega Lì deve morire Assolutamente Purtroppo Non ci muore Ragazzi Purtroppo Non ci muore E questo è male Abbiamo subito Un gran bel danno Questo c'è un deck Fastidiosissimo Io a questo punto Consumerei subito Il barile goblin Lui dovrebbe Zapparlo No Ha mandato la Valkyria Gli facciamo un po' Di danno Ma niente di che E mo Sono uccelli Pediabetici Mo Sono uccelli Pediabetici Mandiamo questi ragazzi Per riuscire a resistere Un minimo Quello è di livello 6 Quindi vi lascio Immaginare che Ci mettiamo un po' Di tempo Per abbatterla Lì la strega Gli farà un lavoro Che mamma mia Perché è una strega E stronza Altrimenti Non sarebbe strega O sbaglio ragazzi Ora 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 Qua sono dolori Qua possiamo Distrarlo in questo modo La strega La possiamo Amministrare In quest'altro modo Direi che ci siamo Comportati Abbastanza bene Lui ha consumato Un bel po' Di risir Per difendersi Da questo attacco Qui Siamo costretti A zappare Ragazzi Siamo letteralmente Costretti A zappare Qua dobbiamo mandare Un cavaliere Non per difenderci Da lui Ma più che altro Per difenderci Da quello stronzo Qui possiamo Mandare Anche il Ah Mamma mia Mamma mia Del tempissimo Pessimo Che ho avuto Però ha zappato Però Hai zappato E la zap Qui te la potevi evitare Secondo me Ah Che belle frecce Che ha mandato Questo ragazzo Eh Questa è dura Ragazzi Qua È impossibile Per noi difenderci È semplicemente Impossibile Per noi difenderci Peccato È stata una bella partita Aveva anche Belle carte Questo ragazzo Purtroppo Non siamo riusciti A dirla nostra Ha fatto un bel attacco Io Resto sempre dell'idea Che i barbari scelti Sia una cosa Illegale 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 Le carte erano tranquille Andiamo ad aprirci Il nostro baule Della corona 535 di oro E tre gemme Orda di sgherri Dammi una zap Dei barbari 28 gobbi lanceri E mini pecca Non siamo affatto fortunati Pazienza Ragazzi Per questo video Direi che è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Ed iscrivetevi Per vedere video nuovi Ogni giorno Grazie E alla prossima Ciao Ciao